Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, 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 cari signori, visto che ci abbiamo preso gusto e grazie anche a un suggerimento che mi è arrivato, in questo video parlerò di un aeroplano che definire quantomeno ignobile è poco e questa volta tocca agli inglesi avere la loro orazione di vergogne aeronautiche, perché in questo video parliamo, come sempre chiedo scusa per i mezzi quantomeno artigianali, dicevo, questa sera parliamo di questo aereo qui, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Lo vedete? Lo riconoscete? Se non lo riconoscete, beh, non c'è di che farvene una colpa, dato che si tratta di un aereo decisamente poco noto, di un aereo misconosciuto, di un brutto anatroccolo della storia dell'aviazione, perché parliamo in questo video del Blackburn V-26 Bota, ovvero sia questo qua che vedete nel Tre Viste, ok? Un ricognitore aerosinurante, nato per il Coastal Command, progettato per il Coastal Command, nato con la stessa specifica che diede origine al buon ricognitore sinurante Bristol Beaufort. Un aereo, il Bota, che definire non propriamente riuscito, siamo sinceri, è decisamente un eufemismo, perché, beh, semplice, ve lo dico io perché basti solo una cifra, 580 esemplari prodotti, 120 andati persi per cosa? Per incidenti di volo, perché si tratta semplicemente, cioè, allora, incidenti di volo causati da cosa? Uno, quando li misero in servizio, non avevano filtri adeguati per il motore, per il carburatore, e il risultato quale fu? L'usura dei motori e quindi molti incidenti con cui andarono persi. Seconda cosa, cioè, come potete notare bene, ecco, vi rifaccio vedere altre viste, cioè, come potete notare, il Bota non è che abbia un'apertura alare ridondante, e soprattutto era anche decisamente sottopotenziato, un mix decisamente pericoloso per un aereo. In pratica, un aereo che aveva un carico alare elevatissimo, dovuto al fatto che, uno, la potenza dei motori era tutt'altro che esuberante, due, il peso, perché era un aeroplano dannatamente, dannatamente pesante. Infatti, a pieno carico superava le 8 tonnellate, e c'è da dire che, essendo propulso da due motori radiali Bristol Perseus 10A da 943 cavalli, oggettivamente, poverino, siamo sinceri, un pochino di fatica a stare per aria la faceva, siamo sinceri. Quindi, ripeto, un aereo decisamente brutto, un aereo decisamente sgraziato, un aereo che definire poco riuscito è un eufemismo, e non era poco riuscito solo a livello estetico, perché, come ho già detto e ripetuto, aveva un carico alare elevatissimo, una superficie alare ridotta, motori non propriamente potentissimi, e, insomma, una certa pesantezza ai comandi. La guerra del Blackboard Boat, insomma, il Boat fu usato brevemente, come in prima linea, nei primi tempi della guerra, diciamo, fino circa al 1940, come pattugliatore e come aerosilurante, ma, fortunatamente, per gli equipaggi dei Boat, non incontrò quasi mai la caccia nemica, perché, oggettivamente, era poco più di un tordo da impallinare. Il Boat, ripeto, aereo pessimo, non si può fare altro che definirlo pessimo. Dopo alcuni mesi di guerra, fu tolto dalla prima linea, proprio per i motivi che ho spiegato, problemi di pilotaggio, pessime caratteristiche di volo, motori inaffidabili, e, soprattutto, senza filtri per l'aria adatti che, come dire, causavano un'usura precoce e rapidissima dei motori. Un aereo disgraziato che fu tenuto, poi fu tenuto in servizio come addestratore in seconda linea. C'è da dire che quando poi il Boat fu tolto dalla prima linea, quando poi fu usato come addestratore, quando certe caratteristiche furono migliorate, leggi, l'uso di filtri aria decenti, diciamo, l'uso per voli di addestramento o di collegamento, cioè, quella è tutta un'altra cosa rispetto alla guerra vera, servì nella Royal Air Force praticamente fino al settembre 1944, quando l'ultimo esemplare volante fu pensionato e demolito. Insomma, il Blackburn Boat è uno di quei brutti anatroccoli, ripeto, eccolo qua, il Blackburn Boat è uno di quei brutti anatroccoli che fa il paio, se vogliamo, con certi progetti di bombardieri, Farman e Potè, fa il paio con la Rado 224, fa il paio, sì, anche con il nostro Breda B88 Lince o con la banana volante SM85. Insomma, signori, un aereo pessimo, mal riuscito, un aereo anche sfortunato, perché, ripeto, il suo, diciamo, il suo rivale, nella specifica del 1937, per un bombardiere aerosinurante e ricognitore, era il tutt'altro che Celso Bristol Beaufort, ma, almeno, siamo sinceri, il Beaufort non si piantava a mezz'aria quando volava a pieno carico, il Beaufort non bruciava le guarnizioni dei motori, il Beaufort, ripeto, non era propriamente un aereo esaltante, il Bristol Beaufort, ma, almeno, come dire, volava, volava bene e aveva delle caratteristiche di pilotaggio più che buone, cosa che il Bota, poverino, insomma, siamo sinceri, il Bota, poverino, queste cose, se le sognava decisamente di notte. Insomma, la Blackburn, che nel corso della Seconda Guerra Mondiale ha partorito cose come il rock e lo scua, di cui vi parlerò con dovizia di particolari e, diciamo, punte di sadismo non indifferenti, perché anche lì c'è veramente di che sparare sulla Croce Rossa, dicevo. Dicevo, la Blackburn durante la guerra si distinse essenzialmente per la sua incapacità di fabbricare aerei esteticamente decenti. Dice, va bene, quando si parla di aviazione, la bellezza è un fattore relativo perché in aviazione, in aeronautica, conta essenzialmente la funzionalità di un aereo. Chi se ne frega, se è brutto, basta che voli bene. Di solito si dice che un aereo, se è bello, vola anche bene. Il Blackburn Boat, ripeto, signori, era un aereo brutto perché oggettivamente c'è signori, c'è signori, scusate, abbiate pazienza, ma credo che questo Treviste la dica lunga sulle qualità estetiche del Boat. Cioè, oltre ad essere brutto come la fame, questo aereo oggettivamente volava. Volare, parola grossa, ecco, diciamoci la verità, questo aereo volava peggio che male. Ripeto, eccessivo peso, eccessivo carico all'area, scarsa potenza dei propulsori, una certa tendenza dei comandi a, diciamo, a bloccarsi nei momenti meno adatti. Insomma, era un aereo col quale, se possibile, tu dovevi volare uno piano, due a bassa quota, tre, il più dritto possibile perché la prima virata un po' brusca era molto, molto, molto facile ritrovarsi a scavare un bel buco nei campi di patate dello Yorkshire. Ecco, detta com'è. Insomma, signori, anche gli inglesi producono i loro belli aborti aeronautici. In questo caso, ripeto, il Blackburn B-26 è uno, se vogliamo, dei peggiori aerei britannici mai costruiti. Ripeto, brutto, goffo, sgraziato, assolutamente, assolutamente quasi inutilizzabile, ripeto, quasi inutilizzabile per scopi bellici. Buono soltanto come addestratore e come aereo da collegamento. Niente di più. E ripeto, un'altra volta, la cifra, 120 aerei, 120 bota andati persi per incidenti aerei, per incidenti di volo, su 580 costruiti. Insomma, qualcuno dovrebbe farsi un attimino una bota di conti e chiedersi se il progettista del bota non era un ufficiale della Luftwaffe, perché credo che sia come dire, uno degli aerei alleati che come dire, ha abbattuto, ha ammazzato più avviatori britannici degli altri. Ok, vabbè, scherzi a parte, signore. Insomma, anche l'industria aeronautica inglese ha prodotto i suoi belli aborti e il bota ne è un clamoroso esempio. Tra l'altro, la Blackburn non riuscì mai durante la seconda guerra mondiale a produrre un aeroplano esteticamente decente. Per vedere un Blackburn bello, secondo me, bisogna aspettare il dopoguerra con il Firebrand che era un gran bell'aereo, che era un grande aereo, ma che non sembrava un Blackburn per dire, perché era bello, detta com'è. Quindi, cari signori, l'ennesimo brutto natroccolo della storia dell'aviazione, il Blackburn bota. Eccolo qua. Ripeto, pesante, goffo, sgraziato, brutto, bellicamente inefficace, stava in aria, si può dire, per scommessa, ed era veramente una scommessa non ammazzarsi con questo aereo pilotandolo, senza bisogno di incontrare i tedeschi, detta com'è. Quindi, cari signori, il sottoscritto vi saluta, vi ringrazia per l'attenzione, come sempre vi invito a, come dire, commentare questo video, fornirmi notizie, idee, critiche su quello che dico, però, insomma, qui c'è decisamente poco da criticare, ripeto, Blackburn bota, brutto come la fame, e soprattutto uno si chiede pilotandolo, molto probabilmente i piloti inglesi si chiedevano quale peccato ho commesso per meritarmi questo, che cosa ho fatto di male per meritarmi per meritarmi sta roba qua. Insomma, signori, un aereo brutto, ripeto, dal pilotaggio quasi impossibile, dalle caratteristiche di volo scadenti, un aereo pessimo, indubbiamente, Blackburn B-26 Volta. Trovatemi un nome, cioè un cespo di lattuga volante, un gallinaccio andato a male, cioè, trovatevi voi un nome per questo aereo qui, perché sinceramente non riesco a trovarlo io, il che è tutto dire. Quindi, cari signori, io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, come sempre aspetto i vostri commenti e come sempre arrivederci al mio prossimo video. E non è una promessa, è una minaccia. Ciao!